Un evento di sensibilizzazione sull'uso dell'alcol e sui comportamenti corretti da tenere all'insegna del sano divertimento. Questo è lo spirito che ha animato la serata ribattezzata pre-Halloween e che si è svolto in un locale nisseno su iniziativa della cooperativa Etnos, la quale ha aderito anche la Polizia di Stato. Importante è il contributo dato dal medico della questura di Caltanissetta, Salvatore Di Benedetto, il quale ha fornito le corrette informazioni ai partecipanti sulle conseguenze negative per l'organismo nei casi di abuso di alcol e stupefacenti. Un intervento, quello del medico della questura, che ha suscitato interesse e partecipazione, in particolare tra i giovanissimi. Un giovane di 14 anni è sottolineato come non sia un evento comune che un rappresentante delle forze dell'ordine partecipi a un evento per giovanissimi per dare consigli, ma soprattutto per instaurare un dialogo, sperando che anche a scuola possano esserci più spazio per eventi di carattere informativo su temi così attuali. Contenti anche i genitori di diversi ragazzi che hanno partecipato al pre-Halloween, sia perché le occasioni di socializzazione sana sono considerate importanti per la crescita dei ragazzi e sia per la possibilità di divertirsi in maniera sicura senza cercare il cosiddetto sballo legato all'abuso di alcol e altre sostanze a tutti i costi.